Sarà discussa in Consiglio Comunale a Gela la mozione e introduzione di agevolazioni fiscali in favore di proprietari e conduttori per gli immobili del centro storico che vengono locati con canoni ridotti concordati presentata dal gruppo consigliare del Partito Democratico. Nel documento si rileva come il tessuto commerciale produttivo del centro storico di Gela stia registrando una serie di sempre più gravi problematiche e al fine di riarginarne le conseguenze si chiede in prima istanza all'amministrazione comunale di porre in essere tutte quelle azioni di agevolazioni fiscali in materia di tributi locali che riguardano gli immobili compresi all'interno delle mura federiciane. Si tratta di una mozione appunto che nasce da un confronto diretto con i commercianti del centro storico perché i commercianti del centro storico più di qualsiasi altro operatore economico di questa città in questo momento sta soffrendo sulle proprie spalle sulle proprie casse sulle propria economia quelle che è tutto la conseguenza di una crisi economica cattanaglia l'intera città quindi noi riteniamo che il tessuto commerciale del centro storico sia un tessuto fondamentale su cui noi dobbiamo prestare la massima attenzione è veramente allarmante ed è galoppante la crisi che registriamo tra tutte appunto le vie del centro cittadino che sono appunto dall'interno delle mura federiciane è veramente triste assistere a come si stia spopolando sentiamo ancora i proclami di questa amministrazione di trasformare il centro in un salotto ma come lo trasformiamo in un salotto se il centro cittadino si sta svuotando sempre di più. È allarmante ascoltare le parole di chi sostiene che il centro storico da un lato si sostiene che il Gela non è più disposta a spendere quindi a diciamo investire i propri soldi nel commercio e quindi è disposta solo ad acquisti low cost e dall'altro si afferma che il centro cittadino deve in qualche modo riempirsi solo di negozi di elitto negozi di nicchia delle due l'una. È una mozione secondo me che sarà ben capita e valutata dal consiglio comunale la spiegheremo nei dettagli e quindi riteniamo che avremo il consenso favorevole del consiglio comunale. È chiaro che da qui alla discussione della mozione cercheremo di attivare dei confronti anche con gli operatori del settore ma uno dei punti fondanti e qualificanti della mozione è quello di impegnare l'amministrazione comunale a mettere su ad attivare un tavolo di concertazione con gli operatori del settore, gli artigiani, i commercianti, gli ordini professionali anche proprietari degli immobili perché riteniamo che il compito della politica è quello di fermare in questo momento un declino e un declino lento ma inesorabile del centro storico che per noi per il Partito Democratico penso che per tutta la città debba essere il cuore pulsante di ogni comunità e quindi riteniamo che nei prossimi giorni ci siano le condizioni affinché questa mozione venga accolta favorevolmente. Una precisazione oggi parliamo del centro storico perché si sta soffrendo tanto ma il tavolo di concertazione domani affronterà le problematiche dell'attività commerciale di via Venezia e poi quelle di via Giannale Cascino e quelle di via Crispi.